Oggi è 8 marzo e non vi farò l'elenco delle pur tantissime iniziative che ci sono dedicate alla festa della donna nell'area metropolitana di Napoli. Incontri lodevoli perché si parla soprattutto di violenza sulle donne ma che purtroppo non portano da nessuna parte perché intanto non c'è una legge che chiarisca e soprattutto punisca in maniera severa chi si macchia di un reato contro una donna. Insomma non mi va di fare un elenco semplice di iniziative oggi parlerò comunque di donne subito dopo la sigla. Già proprio così non mi va non mi va questa retorica della mimosa non mi va questa retorica di tutti i particolari in cronaca non mi va di parlare di tutti i particolari morbosi di un fatto di cronaca avvenuto tra le mura domestiche perché mi basta sapere che soltanto negli ultimi giorni si può dire nelle ultime ore soltanto nell'area metropolitana di Napoli sono state uccise due donne una con una stampella qualche ora fa ed un'altra invece stuprata in un ascensore in un luogo pubblico nel pomeriggio in una stazione ferroviaria parlo di quello della circunvesuviana di san giorgio a cremana violentata da un branco composto da tre persone tre ragazzi di appena 18 20 anni insomma non mi va di parlare di questa estesa permeante meschinità perché la violenza sulle donne non ha confini e spesso tra l'altro ha le chiavi di casa e se agli uomini dico l'amore non è possedere l'amore è capire ed apprezzare che la donna è la tua metà l'altra metà di te l'altra metà di me di noi e che che violento non se sa mai cucca che femmina e alle donne invece dico alle donne percosse alle donne sequestrate fisicamente alle donne sequestrate figurativamente alle donne senza libertà di movimento se non accompagnate dal proprio uomo alle donne che subiscono controlli asfissianti alle donne discriminate alle donne alle quali viene negata una nuova vita alle donne coi telefoni controllati dai propri partner alle donne prevaricate alle donne aggredite alle donne prigioniere nelle loro stesse case alle donne maltrattate alle bambine usate come alle donne donne alle donne soffocate fisicamente alle donne soffocate figurativamente alle donne abusate alle donne torturate alle donne molestate alle donne prigioniere alle donne mutilate alle donne vittime di stalking alle donne possedute alle donne annientate alle donne stuprate alle donne seviziate, alle amiche di donne assassinate, ai parenti di donne assassinate, alle donne usate come oggetti sui manifesti pubblicitari o comunque in generale nella pubblicità, alle donne con stipendi diversi dagli uomini, alle donne di proprietà di uomini. Ebbene a tutte queste donne dico che è un partner violento, non dovete giustificarlo, cambiarlo, perdonarlo, dovete soltanto denunciarlo. A domani.